L'open day. Presso la scuola secondaria di primo grado, Garelli, nella frazione Tetti Francesi e a Rivalda, si svolgerà il consueto appuntamento di presentazione della scuola per i nuovi futuri allievi. Un open day in cui i ragazzi presenti potranno anche svolgere attività, diciamo, pratiche di laboratorio, in una realtà a 10 minuti a Torino che continua a crescere e che fa del fervore culturale delle iniziative inclusive il proprio e prescindibile must. Siamo qui con la proprietressa Golia, vicepreside della scuola media Garelli. Ci sarà un importante evento sabato prossimo, un open day. Di che cosa si tratta? L'open day innanzitutto avrà luogo qui, presso la scuola Paola Garelli, in piazza Andrea Filippa. Dalle ore 10 alle ore 11, nel momento in cui i genitori visiteranno la scuola e avranno la possibilità di vedere le aule, i loro bimbi potranno invece effettuare delle attività laboratoriali. Alle 11 ci sarà poi l'incontro in auditorio nel quale spiegheremo quello che è il nostro piano dell'offerta formativa e quelle che sono le attività che svolgiamo durante l'anno scolastico. Se dovesse dirci che cosa differenzia la vostra scuola dalle altre, della prima cintura di Torino, lei cosa ci tenebbe? Beh, dunque, innanzitutto la nostra è una scuola che nel tempo e negli anni ha avuto come obiettivo prioritario quello di lavorare in maniera importante sull'inclusione, ma soprattutto su quella che è poi la vera e propria convivenza civile alla quale dobbiamo preparare i ragazzi affinché diventino degli adulti. L'inclusione è stata sicuramente appunto in questi anni uno dei nostri obiettivi principali senza ovviamente trascurare quelli che invece sono i ragazzi con diciamo meno difficoltà scolastiche. Uno degli obiettivi importanti che infatti abbiamo comunque, stiamo monitorando nel tempo e che abbiamo comunque tentato sempre di raggiungere è dato proprio dai risultati che poi questi ragazzi hanno non solo durante le prove invalsi, ma bensì poi quando arrivano nelle scuole superiori. Quindi quello che ci interessa molto è riuscire appunto a monitorare nel tempo e poi anche la loro crescita. L'indirizzo è appunto Piazza Andrea Filippa, la scuola si trova a Tetti Francesi di Rivalta, non lontano dalla Fiatavio. Per poter effettuare invece l'iscrizione basta contattarci al numero di telefono della segreteria 011 900 31 70 o andare direttamente sul sito www.icitettifrancesi.it E all'ufficio a relazione...